Ogni tanto ci viene voglia di fare una lenta passeggiata per guardare meglio il mondo che ci circonda, analizzando lo stato di eccellenza dei luoghi, la loro pulizia, i modi in cui sono tenuti e tanto altro, oppure prendendo visione dell'incuria e del loro pessimo stato. Questa volta abbiamo preso l'automobile e senza fretta abbiamo percorso una mangiata di chilometri della strada statale 87, partendo da Campobasso ed andando verso Boiano. Abbiamo potuto constatare che qualche problema c'è. Diciamo che il fondo stradale non è proprio scefro da difetti, ma ormai siamo abituati a strade piene di buche e sinceramente ci stiamo adeguando totalmente ai sobbalzi e alle sospensioni che si lamentano. Invece abbiamo visto piazzole di sosta che sempre sono piene di rifiuti, constatando le due situazioni. L'una con i cittadini che non sono sicuramente tutti educati, continuando a lasciare ai margini delle nostre strade buste di plastica, piene zeppe di porcherie e dunque inquinando di fatto i siti che appartengono alla comunità. L'altra è decisamente il risultato dell'inciviltà. Nessuno pulisce, nessuno di competenza invia un segnale di buona pratica educativa ed i mucchi di spazzatura sono sempre più presenti. Ma il problema maggiore, quello veramente serio, è dato dalle gallerie in prossimità di Campobasso. Sono di fatto inadeguate al traffico moderno e pericolose, molto pericolose. È difficile stilare una classifica delle pericolosità. Forniamo magari soltanto un elenco, l'illuminazione. Alcune sono totalmente buie e creano disagi enormi agli automobilisti, soprattutto quando entrano ed escono, avendo visioni in contrasto per il buio improvviso o per la luce improvvisa. Altre sono illuminate ma non proprio a livelli di studio sulle regole della visibilità. Poi è tutto un fiorire di cose non adeguate, le pareti umide, nere, senza un cenno di manutenzione. Tra l'altro non abbiamo visto nessun impianto per l'aspirazione dei fumi di scarico. Insomma, non ci siamo proprio, non riusciamo a cogliere alcun aspetto positivo, neanche dopo che qualche anno fa per le stesse gallerie furono tirati fuori parecchi quattrini pubblici per rimetterle a posto, cominciando dall'illuminazione. Aspettiamo ancora di vederci meglio in questo Molise, dalle ombre, tragicamente lunghe.